Comunque se vado a teostra è morto eh Eh praticamente Non vado a teostra Dove cazzo è il teostra? Eh il teostra no adesso è poi andato all'altra parte il teostra Non va più dal teostra Eh non lo so Eh però sono 6.000 danni in meno Fanculo Or Dai Cosa Sei un fallito e basta Zitto Ma dai ma guarda qui che schermata Ma cos'è Ma vacca ma dai Ma non la vieni